Ragazzi, se esce Bot Bash, il video finisce! Sì ragazzi, sono tornato di nuovo con una di quelle sfide pazze! L'ultima volta ho fatto se esce il Bloc Dash, il video finisce, ma oggi finiscio io! Ma veramente finiscio! Però intanto, anche se non taglio, c'ho questa magnifica, bellissima cosa di fare! Uno, due, tre, quattro... No, troppo bella sta cosa! Allora, hanno aggiunto tra l'altro nuove skin! Nuove skin che dobbiamo andare nei premi gratis! Ed eccolo qua, lo Stumblebot! Mizzicamo con questo, non è Bot! Ok, prendiamolo, prendiamolo! Vai con Stumblebot, lo equipaggiamo! Sì che lo equipaggiamo, dobbiamo provarlo! Questa io l'ho dovuto fare perché mi ero messo tutto di colpa! Va bene, prendiamo questa magnifica... Che è successo? Non ci ho capito niente, vabbè! Non è successo niente ragazzi! Ce la possiamo fare! Io, io confido in me! Io confido in quello che posso fare! Mannaggia la miseria! Perciò, mettiamo... Eccolo il mio! Stumblebot! È il momento di dare le botte a tutti quanti! A proposito, vediamo un attimo se ho completato tutto il pass e se ho pure la special! Sì! Personalizziamoci le emoti con... Mettiamoci il calcio special in GG, il pugno special in ciao e l'abbraccio che sembra che abbia preso il colpo della strega! Mizzica! Mi hanno detto una botte! Proprio... Ma ragazzi, ma che volete? Con me siete in una botte di ferro! Oggi troppe, troppe cose brutte sto dicendo! Va bene! Eccomi! Stumblebot! Se esce, bot bash! Se esce, bot bash! Il video finisce! Gioca! Wow! Fantastico! E vabbè, già la rompi, sei riempita! Nemmeno il tempo! Ma noi siamo qui! Dobbiamo dimostrare che noi siamo forti come bot! Quindi, forza! Primo round! Ambo, Stumble! Ma perché quelli più schifosi? Ma datemi qualcosa di più epico! Non lo so! Vai, bot! Vai, ce la puoi... Vabbè, ma tutti lo Stumblebot c'hanno! Ma che cosa è sta cosa? È un'invasione! È un inquinamento... No! No! Maledetti! È un inquinamento, ragazzi! Mi stanno inquinando le lobby con questi Stumblebot! Va bene, cerchiamo di... Non farci sopraffarre! Anzi, sopraffiamo noi! Ok? Molto veloce! Mi stava dando il calcio! Beccatelo! Sì! Sì! Così si fa! Così si gioca! Ti faccio vedere io! Ce la faccio! Ce la faccio! Ce la faccio! Ce la faccio! Sì! All'ultimo! Questo... Questo te lo meriti! Te lo meriti! Proprio qui te lo dovevi beccare! Se l'è beccato, ragazzi! Un blocco d'asce gigante si è bloccato! D'accordo! Andiamo col secondo livello! Appena esce bot bash il video finisce! Non deve uscire! Non è uscito! Dai! Almeno un po' lo facciamo durare questo video! Maledizione! Vai! E' quella più bella partita di calcio! Dai! Dai! Un pugno! Ok! Vai! Quali sono stato io ragazzi? Sono troppo forte! Ho dato una botte in test! Aspetta! Ci devo provare! Ci devo provare! Scivolata! 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 Vabbè ragazzi! Troppo forte! Troppo forte! Allora vorrei fare gol col pugno! Ci vorrei provare a fare gol col pugno! Ehi! Ehi! Un altro gol! Un altro gol! Forza! No! Non vale! Non è giusto! No! Allora provateci! Vai col calcio! Ma cosa fai? Bot! Cosa fai? Attenzione! Il bot va con la palla! Lo vede quello? Lo vede quello? Ma io recupero! Ragazzi! Io non ci sto capendo niente! Ma ragazzi! Ma volete tirare questa palla in buca? Ma veramente! Dimostrate che avete! Sì! Sì! No! L'importante è sapervi! Vai! Vai! Ma porca miseria! Oh! Basta! Mi avete fatto arrabbiare! Venite qua! Venite qua! Ma tocca a te! Tocca a te! Te lo do il calcio! Sì! E questo è rosso! Eh! L'ho salvata! L'ho salvata! Ringraziatemi! Sì! 4 a 1! Io sono troppo forte! Non c'è niente da fare! Vai che te la faccio in gollo! Sì! Sì! Ragazzi! Ma cosa sto facendo? Guarda! 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 Sì! Un altro col calcio! E stavolta col pugno ci vado! Non c'è niente! Oh! 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 Vai dentro! E l'ho toccata io! Ragazzi! Ho già fatto tripletta! Bellissima! Queste sì che sono le vere partite di calcio! Io sono da Champions! Io sono da Champions League! D'accordo! Terzo livello! Non so a quanti minuti! One drop! Con one drop! Ce la possiamo rischiare! Non lo so! Sinceramente! Dobbiamo pensare bene! Oh! Oh! Ok! Con la giusta calma! Molta calma! Dobbiamo rimanere gli ultimi! Gli ultimi! Guarda che recupero! Guarda che recupero! Ok! Ok! Dai! Ti faccio cadere! Ti faccio cadere! Ti faccio cadere! Uè! Uè! Ma che bravo! Ragazzi! Devo rimanere! Devo rimanere! Devo rimanere! Vivo! Mannaggia lo scheletro! Tu sei tutto ossa! Ok! No! Non dovevo cadere così! Questo è l'ultimo piano! No! No! Oh! 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 Ragazzi! Questo è l'ultimo piano! Sì! 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 No! Dai! Dai! Diciamo che è stato pazzesco! È stato pazzesco! Allora! Cambiamo la skin! Cambiamo la skin! E ci mettiamo una di quelle nuove! Andiamo su un leggendario! Anzi! Anzi! Fatemi mettere Brian! Proprio lui! Il nostro carissimo Brian! L'ho preso Brian? No! Me l'hanno rubato! D'accordo! Mi metto la zucca! Vai Jack Lantern! Vai a vedere a tutti quanto è buona la zucca! Ehm... Mo ci facciamo i zucconi agli altri! Mi spacchiamo la... Gli spacchiamo la zucca! Non sono belli questi video così parlati a raffica! Cosa stai dicendo? No! Non è possibile! Signor Paolo! No! Ma che cazzo sta succedendo? Aspetta! Ok! L'importante è essere vivi! No ragazzi! Non mi fate cadere dal quarto piano! Se no mi spacco la zucca! Dai che io sono uno zuccone! Lo so! Ma sono vivo! Dio! No! Evviva le zucche! Ragazzi! Evviva le zucche! Dove sei? Le ho fatti cadere tutti! Non ha importanza! Io ho rotto le zucche! Le ho spaccate tutte! Molto bello! Molto bello! Bellissimo! Tra l'altro posso fare su e giù! Così! Troppo epico! Secondo! Secondo round! O se ne avete paura? Perché forse è il momento! Siamo raggiunti nella fase in cui potrebbe spuntare! Bop! 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 Eccolo! Infatti è là! Ce ne eravamo quasi! Aiuto! Non è una final! Anche questa era una final! Ma che è successo? Is the final countdown! Aspetta! Aspetta ragazzi! Tutti bene se cadete tutti! Troppo bella la scivolata! La scivolata non è che ne prendi solo uno! Li prendi proprio tutti! Allora! Non facciamo zuccate! D'accordo? Non facciamo zuccate! Veramente! Mi manca solo il sale in zucca! Aiuto! Poi va anche lo zucchero in zucca! Qualificato! Polo! Madino! Non lo so! Polo Madino! Che ci fai qua? Polo Madino! Questa è la seconda volta che ho la possibilità di poter vincere una corona! Secondo voi ce la potrei mai fare? Per il momento! Per il momento ragazzi! Tutta la serietà! Ok! 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 Basta non sbagliare! Bastano sbagliare Bastano sbagliare Ok quelli là sono molto più bravi di me Però mi basta solo che una volta uno cade Io mi infilo Io mi infilo Io mi infilo No 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 C'ero No 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 Basta Basta Mo basta Userò la mia arma segreta E io lo dico La mia arma segreta È lui È Pingu Vai Pingu Salvaci tu Ho lasciato un mega mi piace per questo video Ho lasciato un mega mi piace ora Perché il nostro Pingu ci deve aiutare Pingu spacca tutto Prendili a pugni Basta Io mi devo stare calmo Si vede tutta la calma che ho nella mia faccia È molto calma Ok Ci siamo Tra poco uscirà Botbush Credo Vediamo Non so a quanti minuti sono A 12 minuti Eh guarda Il signor Botbush Non so quando potrebbe uscire Pingu 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 Mamma mia Ma lui Ma lui è un acero Lui è un acero Della polvere Lui è acera tutto Aia No 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 Scherzavo Scherzavo Non acero niente Non acero niente Il trick che non lo faccio Ho capito che Per essere primi Dobbiamo fare le cose giuste Per essere secundis Dobbiamo fare le cose attristi Wow 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 Ecco così si fa Ti do un bel calcio Perché Pingu arriva E spacca tutto Quel calcio In un altro posto Farebbe un brutto effetto Molto brutto Però non lo diciamo Non lo diciamo Rimaniamo calmi Ok Siamo quasi giunti A un momento storico Il momento In cui I miei scleri Aumenteranno Non è Botbush Ce l'avete con sto laser Tracer Basta Basta io veramente Mi sto arrabbiando E' una cosa incredibile Fate finire questo video E' una pazzia Datevi il tempo Di respirare Vi elimino tutti Vi faccio cadere a tutti Ci penserà Pingu Se cadete tutti Che strage che ho fatto Ho fatto la strage Ok siamo a 5 Non so voi Ma Ehi ragazzi Cadete Niente non cadono Peccato Sei Dai sono due Devo eliminare Sono due Elimina tutti Oh io ci sto provando Eh Ok Questa è la terza La terza volta Che cerco di vincere La corona Vai Pingu Ce la possiamo fare Era da piacere Perché io solo con lui Riesco Aspetta Ecco Ti giuro Appena ho messo Bung e Bingu Bingu Con Bingu Vai Ci proviamo Vai No 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 Mannaggia No vince quello Vince quello Vince quello No ha vinto Ragazzi ha vinto Ha vinto Cavolo Carolo C'era quello Che si chiamava Carolo Cavolo Non finirà mai Sarà una Tortura Psicologica Il primo Non è mai Quello Infatti Ragazzi Cado Basta Non ne posso più Cado È il momento Di buttarsi È il momento Di buttarsi Sbuttati Bingu Eh vabbè Ma che fortuna Eh vabbè Ma che sfortuna Scusa È la mia beccata Giusta Allora ragazzi Così si recupera Guardate come si recupera Quello è verde Benissimo Dato che è verde Eccoci Ma gottbush Non spunta mai Rabbia Quella che sto provando Io Guarda Sono pure tutto rosso Tra l'altro vi piace Non so se vi piace Vi piace quello Ho disistemato Qua dietro Ho diventato Molto 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 Più Fresh Più fresco Molto più Però aspetta Aspetta Io ci Ci provo Terzo round No secondo round Ma non vedo Botbush Quindi non Ormai non nominiamolo più Perché Temple guys abbiamo capito Che mi vuole far soffrire Che cos'è Che c'entra Che vuol dire Allora Se esce questo Che vuol dire Pure questo Una final Pure questo Una finale Quante bombe Vabbè In faccia No no Bombe già troppe D'accordo Basta Bombe Sei proprio una bomba Aiuto No Pingu Non si flerta Con le bombe Cosa sto dicendo Pingu Non si flerta Con le bombe Te le vuoi pure Braccia Sono vi Sono vivo Incredibile E' una cosa Pazzesca Cos'è successo Ecco Queste sono le mie Normali Giocate Su Stambul Guys Quando devono Succedere Queste cose Ah Brutale Ah Aiuto Aiuto No Eeeh Addios 20 minuti 20 minuti Di video Con io Che sclero E mi becco Il martello In faccia Guarda Guarda Pure le palle Non so se ce n'è uno Che è primo Mi sa che è quello Guarda Tutti conoscono Questo posto Guarda Guarda L'ognomo L'elfo Guarda Guarda Che peccato Guarda Non l'avrei mai detto Cioè Non l'ho fatto apposta A perdere Giuro Lo giuro Non l'ho fatto apposta A perdere Perché sto cercando Di terminare Questa Questa Tortura Mi sto Autotorturando No No Ah Vi prego Non ne posso più No Cosa ho fatto Sono volato Senza senso Così Così me lo dici Dai vabbè Ragazzi Non fatemi cadere Giuro Non voglio perdere Non sto facendo di tutto Per perdere Non sto facendo di tutto Per perdere Perché non mi interessa Tanto Tanto io ormai Non Non siamo qui per vincere Siamo qui per Per perdere E' lo scopo E' lo scopo In questo gioco Ok Spero che si sia capito Però guarda C'è un altro pinguino Oh che carino Che carino Che carino Oh Eeeh Non voglio guardare Veramente Sono costretto Nemmeno che Spuntano livelli Diversi Spunta Lo stesso livello Siamo a 20 minuti Non lo pubblicherò mai Sto video Io lo so Ancora Pinguino Contra pinguino Ehi Io sono il pinguino Più veloce Del far west Ehi Ehi Ste cose Va bene Ho capito Sì Che di pugno Ferisce Di pugno Ferisce La lotta Tra i pinguini Ok Oh ma perché Non arrivo Primo Quando Ma perché Arrivo Quasi primo Quando Non dovrei Arrivarci Spiegatemelo Ragazzi il pinguino E' stato eliminato Il pinguino E' stato eliminato Ecco Io Sono il pinguino Più forte No No Gli altri Pinguini Qua Che spuntano A caso Che non hanno Il nome PNG Chiamatemi PNG E' uscito Un bot bash E'